Cioè manca poco o dovremmo andare veramente? Sì, ma adesso non partiamo. No, non è così tanto lontano. Mi sento l'orologio, eh. Ecco. Parole famose, no, non è così lontano. Disperati, qualche medico. Comunque questo fucile imprecisa è veramente bello. Ah, ma vaffanciufolo, quando lo tiri su ti trasforma subito in un fantasma. Pensavo che te lo potevi tenere. Magari. Ah, ma te lo potevi in giro, cazzo. Te lo puoi togliere un momento, eh? Sì. Sì. E il sito in impremuto? Tu giochi da Xbox o play? Da Switch. Dovremmo avere così i stessi tasti? Sì, cambia che la mia è dove c'è il tuo cerchio. La mia B. C'è il tuo cerchio, scusami, ma tu hai l'Xbox o la play 4? Xbox. Ok, allora dove c'è la tua B c'è la mia A. Però funziona come la tua B. Sì, 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 sì. Quindi ti fai l'area. Capito, capito. Poi tu spiegata, poverino, che hai detto che se ci sono. Ah, 60 mi sembra. Come se ci sono? A me no, eh. 30, nici. Non ricordo, se ti è un problema. Allora, mi metto che era. Ah, boh, vabbè, intanto tra un paolo riattacco la play 4. Lo so riaggiornarlo perché non l'ho aggiornato. Arriva. Ok, ucciso. Ucciso. Eh, io col coglione nel fuoco, vado. Che... Un genio. Uè, avete già fatto una win? Sì, sono un po' malta. Eh, la ragione è ovviamente due. E' dopo. Diciamo che le nostre sono un po' fortuite. Non gioco a serie. Giocare meno a serie, così vi facciamo fare la win, o se no... Eh, tu gioca a serie, non ricazzeggiamo. E mi gioca perché... Eh, perché tu sei che sono forte, probabilmente. Che cattiva. Vieni pieno, anche lì. L'uomo è uno. Ah, cazzo, è stato l'uscitore, un coglione. E' nel tempo. Non trovo un cazzo, veramente. Perché sono un po' colpito. Per dire, non ammazzo, 500, 100, 100. E non trovo... Ah, ho un BG, per voi. Sfracchiamo tutto. No, non c'è nessuno, ma non c'ho già fatta. Se la fai, dovrebbe accoltarmi a me, non lo so. Sì, a tutti la vuoi, credo. Allora, no, spieghiamo che la fai, ce la fai. Eh, ma non c'è nessuno in giro, qua. Arrivo, arrivo che... Senti tu che stai suonando? Mi giro a caldo. Ok. Perché suona il trazzo? Si, uno si è nascosto e suona così per la punta. Ma tu stai suonando? Sì, sì. Ok. Perché c'è una misura da suonare. Ah, ok, ok. Oh, ma bella. Mi hanno detto come una cesta. Sì. Una benzina. Sì, posso suonare in tutta sicurezza. Eh beh. Mi pare di avere il camion distrutto, però no. Lo dettaglio. Ok. Quattro colpi se mi tirano, sicuramente esplode. Non c'è oltre. Se mi tirano quattro colpi, lo prende a casa. Non c'è senso. Eh, vabbè. Oh, ragazzi. Va che tra un po' arriva la tormenta. Tempesta, tempesta. Ma andiamo, no, no. E' inizio con lui. Chi siete? Mi è perfetto. Ecco i coi. E' inizio con due. Ma qua sono in due suonare, cazzo. Eh, esatto, noi siamo in due. Io fai la nana. Ok. C'è il taxi. Ma no, me la fai la nana. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Sono schientato. Dito. Non capite? Ok. Ok. Dai, ragazze. Dov'è? Mi sa che ha già preso una macchina, Luca. Dito, non sfonda i cosi, questo qua. Non sfonda i muretti. Puoi fare bene. Anche con la testa. Quagile. Andiamo. Ficca quel tempo. Andiamo fu. Se riesco a prendere un pochino, è mega energia. Certo, perché le macchine qua stanno andando sui sassi, proprio. Sì, sì. Alla grande. E così, già. È normale, tanto, le forme. Non sa che io, con se la mangia. Cosa è sta cosa? Dai, dai. Ah, quello del piccone, ma fa un fufolo. Sì. Dai, dai, dai. Sì, fai. Ok. Che cacchio, eh? Vai. Qua a destra. E qua, è qua. Vai. Qua sotto, qua sotto. Ok. Sopra. Guarda qua, questa cosa. Giù, giù di qua, giù di qua. Sì, di qua. Troppo. Ah. Soldi. Eh, ma no. Chiamala. Che vuole dire? Tu. Come c***o io? E' usato. Via. Capiamo fortissimo. Ma no, ho preso, ho sbagliato, no. Ho lasciato giù il mitra. Per prendere un altro fucile a pompa. Sono un coglione, ho sbagliato l'arma. Cazzo, succede? Cazzo, cosa dobbiamo fare noi? 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 Mi sono fermato qui a posta. Cazzo. 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 Facciamo, ragazzi. Facciamo una missione? Faccio bene? Giusto, moriamo. Mi chiamiamo di vita, adesso. Ma abbiamo un po' diaglio qua. Perché siamo qua nel mezzo? Ci fidiamo tutti. Ma come servono le pietruzze? Se ce le riuscire, andiamo nelle palle? No, non ci serve. Ragazzi, andiamo fuori dai coglioni qua, no? Asperta, asperta. Vai per il maledicino. Che cosa dobbiamo fare? Cos'è che dobbiamo fare qua? Questa. Vabbè, io una minica. Ti raccordi dopo. Qua, qua. Ma chi è che mi ammazzo? Cazzo, Lido. Eh, sono morto anch'io. Ma vai, uccidi, uccidi. Eh, lo uccidi, sono morto. C'è una missione. Vero cambiare. Ma che cosa? Io me lo spazzo. Ma che, eh, vinco. Cazzo, succede, sto morrendo. Eh, l'hai distrutto, grande. No, no, non ce l'ho fatta. No. No, non me la contate a Paul. Vabbè, che Lido, ce n'ha poca, eh. Vai, 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 vai. Vabbè, lasciatemi schedina, ma. Perché schedina? Ok, lasciatemi schedina, lasciatemi schedina. Ma veramente? Aspetti, vai, guarda la schedina. Prendiamola. Ok, no, vedi che tu uscirà proprio. Eh, ma io sto rimorendo adesso, sono pilla. Non ti muovere, non ti muovere. Non ti muovere. Non ti muovere, adesso ci metti, e poi... Eh, non ti scappo. Io prendo più questi, perché almeno così mi faccio la medicina medica. Eh, mi rendo utile. Oh, metti giù la lampa lì, l'alanzo. No, no, no. No? C'è la pronta. Ok. Ma cazzo c'è l'acqua lì? Passiamolo, adesso? Io passo. Eh, sì, se vuoi che sto guidando, mi sa che non posso. Devo fermarmi. Sì, vai, 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 vai. Fai quello che li vedi. Eh, ok. 14, 12, 10, 8, 6. Perché ne salta due a due? No, ma era a mezzo secondo, stava per fine il medicaid, sono morto. Merda. Ma tu dove sei? Curati e poi ripigliami. Adesso sto cattonando lì. No, sono morto. Sono morto male. Anche io sono morto. Anche te? Ma quel cazzo... Ma eri là, eri arrivato, ti ho sparato. E mi era come la cucina. Mi ha scattato questo stronzo, guarda qua. Non lo so, manca un gentile... Sì, ti ho sparato uno, mi sa. No, ma sei venuto in lobby? Sì, sì. Devo fare una cosa? Hai il lobby? Sì. Ok. Veramente sto sbloccando i cipostellini. Non sei... Una bomba. Allora... Quale è il cartone? No, mi chione che c'è. Comida, panco... E lei... Oh, quattro anni. Noi dobbiamo fare una roba. E di fine. Ok, adesso dovremmo... Prima, dovremmo... Andate a andare in d'aria. Chi vuole andare a sappia? Dove? Non può andare a un po' sappia. Credo non sappia. Sappia? Non sappia. Sappia. Sì, perché vuoi la cazzo? Io valutino il video, sono assoluto. Dico Wolverine. Wolverine? Eh, cioè, direi dove Andrea ha preso Wolverine. Sì, per fare un po' questa mano. Eh, non so proprio il costume. la stavo togliendo subito la stavo togliendo subito Lì dove l'avete messo? Burkabak! Andiamo qui, qui c'è il punto dove posso fare amici Dove? Qui E quello qui abbiamo dovuto fare il suo bingo, esatto Sì, ma dobbiamo prendere un sacco di munici Le munici non c'erano loro quando le uccidiamo Quindi basta che prendiamo un assalto e un combo Asalto SMG, abbiamo scattato con le due casca Sipi E poi abbiamo... Prima viola e rosa, peraltro Sì, quello viola e quella rosa Dito, quello viola hai messo tu, eh Eh, infatti Eh, ma dove andiamo? Viola e rosso E' rosa Adesso tiriamo qui assieme e poi andiamo io Per terminare il coso Ma, che roba qua? Perché magari scendono solo Siepi Ok, no, ora scendiamo i suoi Siepi E prendiamo le armi perché sono lì a piccola, Sipi Sì, però non ho fatto la parola, no Sì, anche lì asciutto L'ho trovata lei C'è gente qua Dov'è? Ucciso Bastarda Ma dove siete voi? Ah qua. Ma io sono atterrato da tutta l'altra parte. Vinta me, vinta me, vinta me. No, sono saltato giù. Ma si? Però io sono all'altra. Ma c'è gente? Arrivo. Ce l'ho sanzionato. Le bot. Aspetta, aspetta, aspetta. Fammi avvicinare col camion. Ah, è vero. L'hai fatta? Adesso arrivo. Con calma. Perché sono atterrato da tutta l'altra parte, ragazzi. Meno male che mi sono ricordato, abbiamo fatto un'altra missione, GG. Sì. Opa, c'è gente che spara. Aha. Sì. C'è... Ovviamente non mi ha mai assistito a quello che mi sto capendo. Ma come in te? Cazzo, non ho più omunizioni. Oh, cazzo. Ma cosa siete? Sì. Sì. Quasi suicidato contro di me. Sì. 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 Sono morti tutti? Sì. 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 Sì, è fuori. Sì. Sì, è fuori. Sì. 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 C'è il piatto che si è incazzato in un sacchetto? Ah, che volta! Abbiamo, giusto, giusto, due colpi, a meno così poi dopo si rincazzano lì. Forza? Abbiamo due colpi, giusto per dire che li abbiamo così dentro lì e ne fermiamo altri. Io direi che andrò, se io sento. Io ho 30. Ti serve vita? Ti serve vita? Ah no. Che ti serve? Assalto. Ah, non hai munizioni. Ti do io? Eh, le ho tutte scaricate, lo so che le ho. Bene. Anche se mi ci prendete. Anche se non ci. Perchè non? No, l'hanno usato, merda. Ok. 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 Se voi volete andare lì prima che poi dove vado io perchè lo sto andando io adesso metto il gioco. E' tutto qua. Ah, sei solo in alto. No, no, tanto ne ho. Eh, cacchio. Mai! Siamo giù di in basso. Se io volete qui se volete. Carnetta sotto. Eh, cacchio. Eh, fami indietro. Eh, fami indietro. E, fami indietro. Fu. E la fami indietro. e sei fermato? ma sai che... sai che non c'è il punto strano? e lo so! c'è lo slurp qua! dobbiamo andare qua, merda non avevo capito quindi dove andavano? non mi avete capito oh, c'è dentro qui uno aveva fuori sulla scala e... aspetta che andiamo, andiamo di lì ah, c'è una macchina qui c'è una macchina sicuro io sto facendo qui la missione che ho letto due minuti ci sono dobbiamo prendere i cosi del pesce ah, ok un lupo c'è il lupo che insegue una gallina ah, ribaltarti ci mangia il lupo oh, lì c'è roba c'è un cellone c'è lo scellone oh, lì c'è gente mi sa ah, c'è lui c'è lui, effettivamente merda e sto cercando il terzo ma che arriva roba arriva tempesta non... tempesta cazzo di gioccoli merda vedo, sei indietro, c'è un'imposa un papazzone esci da qua trovate, scusatemi arrivo, sto correndo non potete morire il mondo moriremo mai moriremo mai ah, un uccellino oh, il cavolo dio vieni qua sai il Batman andiamo ora è buttata a forza la risa servono proprio invece no invece no invece l'altro l'altro lo stanno facendo da riparciarli quindi dove dove dobbiamo cambiare macchina mettiamo perchè? il livello 12 passerebbe tempesta ah ok ah no invece no è qualcos'altro che non so cosa io so completando cose per cose che non saccio io perfetto ah ok ho qualcosa di tutto custom eh sì da dentro comunque avete i minori colpi sufficienti per poi armarne altri io in totale ho 224 colpi ah ragazzi c'erano 100 però c'erano tanti sperando che adesso non si fanno qua altri guarda che c'è gente io se vuoi vi posso dare due cavoli per uno guarda ah no guarda qua c'è la roba del pulasco guarda che sono fuori vedete anche in questo vedete 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 no no le manià guarda 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 anche io un attimo che ho l'ho tutta qua qui guarda che con la rabbina è una 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 rabbina silenziosa va bene appena arriviamo lì iniziate a sparare a tutti io credo che le semigine sono l'eroghiano ma che casino guarda che cos'è io lo raccolgo ok adesso posso dove è 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 casino succede qua merda bene no non uscire attento 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 non ma 20 secondi Sto morendo! Adesso io non resto! Non restare! Scusami! Ammazzate, ammazzate! Sto morendo male! Ok, grazie! C'è qualcuno che ci spara ragazzi, occhio! Lì, lì, lì! Ammazzate quello! Ma che botte sono? Sto morendo male! Scusami! Prendilo, prendilo! Ok, tutti i morti! Poi abbiamo fatto una strada, per quasi niente! Lì, 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 lì! Nel cubo, cinque, dieci, quale gigante, sia lo stesso! Sì, che sarà... Sì! 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 Ragazzi, qua ce ne dice linea, se volete! Cazzo no, usciamo da qui! E quanti cubi avete? Cubi? Sei, 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 non sei! Adesso sei, no, undici adesso! E' la roba che lascia la gente! Con i quali erano venticinque, insieme, merita... Cosa sono i cubi? Cosa sei? Ehm... Per dire, i tassini del cubo... Ehm... Ma cosa te ne fai? Sono io, no? Io lo undici! No, ho capito cosa sono, ma cosa te ne fai? Ehm... Rintoramini che era leggendario! Mh... 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 No, mancava veramente poco! Ehm... Andri meita, eitthvað komiði kofi hjá aðeitthvað? Sì... Ehm, miði sei. Ok, sei farla. Ertu mann, aðeinsho, miði? Ok, ja, sei. Ma ni, mancavaði nóg, sei. Ehm... Ehm... Ja, sí. Ná gondi í teili aði? Ó, ekki. A, ú, no, eða, það var, skoðu ok. Iš, vei, svei te netàli dí più? No, ú... Basta, miði mancaði, basta! No, no. Eðaði fatjó? Mh.. Ok, ne mancaði moriðo. No, aðeinsho. Ok, ja. Trenge. Eccola qui? Teore? No. No. Eðaði, nála usita. Teore? Eh, vagli ó fàcci un pò... Sì, vei? Sì, vei? ormai, l'ho fatta per noi, non sono andata a far spammare, devo sparare a cazzo, assalto come spammo e pombo, io lo scuserei a tre anni, ricco per me, io per voi l'ho fatta. Grazie. Oh, c'è qualcuno lì? L'ho ucciso, penso. Ah, era un pollo? Bene. Eh, ovvero, non avevo fame. Per colastra. Fagno di me. E voi? Sì, sì. Ah, ma c'è anche l'ora saperlo. E ormai è troppo tardi, ho usato il kit medico, l'ho vista dopo. L'ho vista dopo. Ma non è meglio se ce ne andiamo. Sì, anche lì. Perché se mi do lì sopra, è lì sopra. Ma cosa stai facendo, Dito? Di salire così, ti seguo. Tenta che mi spara. Oh, a destra c'è qualcuno che spara. Venti quattro? Venti quattro? Oh, io ho. Poi da vicino. Raga, vieni per me, ci sono i like, ci sono qui dentro, sei il pro. Fidati dentro. Pazzo, allora, non vieni a zentra riso. Vieni, bianco, vieni, va. Questa è quasi buona. Oh, no, bomba. Stardo. Ma io non mi vedo. Eh, sono... Pingali. Venti due. Venti quattro. Rivomba. Venti quattro, venti quattro. Orante, morto. Sono morto pure io. Venti quattro, venti quattro. Morto! Venti due, siete. Io non mi fingo. Sono morto. Cazzo, gente. Cazzo succede qui? Qua? E' uno qui? E' ucciso? E' uno qua davanti a lui? Uccisi? Non lo vedo. Ok. Cazzo. Mi devo riscaldare. Non ce l'hai? Facciamo una creativa 5 minuti che mi devo riscaldare perchè faccio sardare. Adesso. Scusatemi. Per dire. Prima le avrei uccise nel... Non è il tempo che mi sono perdesse. Ecco qui. L'ho ucciso. Prendo adesso. Punta. Oh qualcuno qualcuno è? Si senti? 24, 24. No. No. Morto. Sei spammato a un uomo. Morto. Mi viene detto che è un assalto. Destra, destra, su in alto qua. Destra qui. Non c'è. Non c'è. Tutte e due. Io fermissime però... Di dove è che c'è gente lì? Vita per noi. Vita per noi. Vita per noi. Ok? Non c'è. Non c'è male. Vieni qua, vieni qua, vieni qua dove siamo noi. E c'è pure io. È vero... Non c'è niente, è proprio... Non c'è niente... Non c'è niente... E zadino... Perché sei andato fin'alto? Vieni qua, vieni qua... Granne. Granne, granne, che ha l'estero. Sì, sì. No, fissa tu. No, no, no. Come? T' un morto, eh? Vieni qua. Vieni qua. questo cazzo ha fatto a prenderlo con l'anciagazzo da lontanissima dov'è che è sto figlio di stronzo? è un'altra struttura che mi ha preso a città, bravo, vedi? l'ha? ma fiumi di tutto ah grande, grazie no ah ok, no è tre no, si, ma non è quello il problema per me è il problema un altro che c'è l'acqua, io non riesco a giocare in acqua quindi... oh, suona, suona, suona che stronzo ma cosa cazzo c'ha da colpirci così forte? sta currando il suo compagno loro non hanno ancora infinite no, 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 qua per capo? per capo, rili l'ennesima volta attenti, attenti non li vuoi capito? dove vuoi? ah, sono morto si, ma andate a pigliare quello, lasciatemi stare ma va che a destra, va che è lì a destra è vicino a te se ti fanno il kill o l'hai vildo? ma no, ma pensa a ammazzare quello lì ma no, ma pensa a ammazzare quello lì si, è ancora quello lì vai, vai, vai no, non lo vi c'è che andrà troppo bene vai, 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 vai andee vai vai cazzo, no, ma che sfiga hai rigirato finchia se mi ricordavo di chiudere dai eh, li ricordavo poi in giro, cazzo, questa t'ha proprio fregato vabbè, dai, vabbè hai fatto molto più di noi adesso non capisco cosa mi vuoi con me no, lì per sbaglio ti senti stato con l'ultere e hai girato un po' eh sì, ma se non avevo un mazzo non arrivo a questo eh, perché quello, cioè, addio a un certo punto era chiaro che era lì a guardare cosa facevi vabbè nell'azione uno non ci pensa l'ho fatto pronto l'ho fatto pronto l'ho fatto pronto allora faccio una schizia seria ma siete nella lobby, non ho capito sì, lobby, lobby, lobby ah, ecco io la stavo ancora dentro la partita scusate, l'ho fatto pronto dalla partita no io non so così come dopo prendiamo gli altri stili del pesce riprendiamo adesso e dopo facciamo la messina no 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 ok un incursore lì nel cazzo di nostro un cazzo si trova l'altro due di tre l'altro aim ma chi è che conosce il system chi chi è il system system è entrato nella chat ma chi è? chi c'è scritto? ma è il gioco sei tu, sono io, siamo tutti ah scusate, c'è scritto system è entrato nella chat non so scusate pensavo che era qualche tizio che voleva entrare mi fai pronto, Andre? ah ma anche te arcobaleno, va bene ah 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 non lo ha detto non lo ha detto non lo lo ha detto non lo lo ha detto qualche cosa che compro. Ma veramente l'hai pure comprato quel coso? Sì, mi hai riuscito. Sì, va vero. Eh, ma mi è divertente. Eh, sì. Cazzo, ho trovato il modo per bypassare la batteria del computer e farla andare direttamente qua a corrente. Bene, hai tolto la batteria? No, è una cosa che si fa in automatico. Lo lascio attaccato, almeno non mi si fonde la batteria. O il computer? Eh, sì. Andate dove volete. Ah, vedete l'idea andare a che cazzo? Andiamo, ma sono collegati. Ah no, vogliamo fare qua. Andiamo qui. Lì? Eh, vengono... Adesso non è andato là. Anche voi. Non è andate proprio lì, andiamo a che voleva farlo. Va bene. Eh, perché ci sono i strozzi. Ma se io vado su un pupuzzolo della montagna qua, c'è qualcuno. Non penso. Ma mi ha sbalzato fuori! Chi cazzo è che mi ha sbalzato fuori? No, ce l'ha da tutta, ce l'ha da tutta. Ah, sei andato da tutt'altra parte, il proprio barone. Esatto. E' una postavacchia. Ok. Mi sono uscito a Santa Roma. No, 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 no. Ok. Vieni qui dove sono io che c'è un bambino. C'è un cacchio qua. Non c'è niente. Io ho trovato un fucilo a pompa, cioè verde, però... Vieni qui doveva. 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 Ah, qua c'è il cucuzzo. Aspetta, io sono sul cucuzzo della montagna. Ah, vai. C'è un cucuzzo della montagna. Magari, ne avete più a meno una per uno. Ah, ecco perché io l'ho saltato proprio in diretto. Huh, ho trovato un bel fucilo a uzzo, un bambra viola. Sì. Ok. Se scendi qua, adesso mi arrivo, c'è Roma. Arriva-arrivo. Ok. Sto'arrivando. Per dare qualità, però, non lo so. una qualità la cosa migliore sul governetto e adesso andiamo e prendete le cose fidate voi come prima cosa aprite la cesto intanto uno di voi che avrà la cesta non ha niente la cesta è epica apriamo la cesta è epica potremmo venire come si trovano a 1 e 3 e anche a morire ok ah qualcosa perché ho 38 colpi e 17 di ho aperto la cesta e sbaglio ragazzi ok aperto adesso io pensavo che avevo toccato la visita non fermatevi lo ricaricate vedete qualche arma qualsiasi qualsiasi arma e portateli lo ricaricate no ho vinto le cose ne hanno sempre fatta non ce l'abbiamo fatta di tantissimo questa volta guardate non ho più valente una squadra completa però qualcuno di questi amici sta giocando eh non conosciuti non so più ok ma adesso non so più cosa morto che schifo andiamo nella volta andiamo 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 bene non abbiamo vinto bene raga io prendo questa posta del pompa e prendo questa pompa ok andiamo 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 questo che è appena falso qui andiamo guarda che non ho più punizioni ma non devi sparare col pompa con tutte le armi il pompa sparamento iniziate no lo so a me a me ok ok iniziate a spammare tra te iniziate a spammare vai 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 ok guarda che c'è un ucciso guarda che c'è un ucciso ancora 10 secondi sconosciuto sì non trovano i muri dai 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 siamo sempre da sono sempre da fare perché avevo trammini che non andiamo 10 sì 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 dai dai che fossi un ucciso di trammini ah di non si non ma ora una volta la domanda ci sono dici sei che sta è vai l'ho fatta ora era ora um morte eh l'ho fatta avevano vinto vincevelo tutto Perchè ho questa roba in mano? Abbiamo vinto quando ho ammazzato il schizzo. Io ho sbagliato la roba. Ok, vabbè. L'avevamo uccidere con l'alto. Ho soltanto un coso. Questa fine me la voglio tenere, questo qua. Non vedo. Io ho questa roba qua che devo togliermela, che c'è già. Non colpigli, io ho tutti i treni. Quanto? Tranquillo, ce ne ho già un'altra. Se per potenziare puoi potenziare sei cosi pubici. No, 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 no. Quanti ne hai adesso? Presa, presa. Quanti ne hai adesso? Ok, 31. Com'è che li potenzio io? Uno. Uno ne ho. Ah, ecco lì qua. Come faccio questo qua? Faccio potenziarlo. Allora... Con venti cubici mi faccio potire vite verso... Faccio... Autoturno. E' una parola, ragazzi. Sì, autoturno. Ho sbagliato, devo far questo. Adesso sto... Però avevo fatto la missione a quello che aveva mi piace. Questo... Sì, sì. L'abbia fatta la missione. Sì, sì. Ho sbagliato a potenziare. Ehm... Ah, ecco l'abbia. Pensavo che la faceva subito rara. Che potenziato? Pensavo che la faceva subito rara invece deve essere viola per diventare. Proprio che la faceva di botto rara invece no. Che è dorata, capito? No, no, potenziato un'arma blu e diventata viola semplicemente. Sì. E tra me c'è poche gente. Oligate. Non la vedo neanche io? No, adesso è il problema. Cosa gente c'è? Io ci sono. Abbiamo quell'aria. No. Morchi Vedi c'è che spessano per la squadra Ponte 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 Dove devo curarmi, sono quasi morto E' quel fucile del pifero, cazzo è morto Eh si esatto Fichissimo E' mortissimo Qui Ma anche qui Qui Cos'è? Cura Non vediamo nè Questo qua è vivo allo spasso Raccoglio Faccio il salto E una granata C'è l'oscillone Raga, raccogliete una granata o una roba del genere Poi c'è il vampa virolla se volete Eh Non so cosa vuoi prendere Quasi prendo questo Cosa vuoi prendere? No, ho preso il vampa Mi piace di più E l'ho trovato dorato Vedete ma questa qua Doro Che cosa? Migliora, così per viola Cosa è questa? Urca, si La cambio con la mia Posso Non andare via Arrivo Andiamo, andiamo Dov'è? Lido Che cacchio sei? Posso Posso No, andiamo Andiamo Non le facciamo partire Perché? Oh Canto ti fa Che non mi fa Non c'è la scelta Cosa è 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 la scelta Sì, esatto. Prima ti avevo chiesto. Io spero che non, no, sennò è inutile. È bello. Su un business nuovo dei ride? No, mi piace. Mi vuoi una buttata? Perché col slide mi ti fai affrontare. Qua, gente! Qua, 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 no. Ah, quella lì non è gente. La uccella qui. E' ucciso? Morcos? Morcos? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Io non ho spasso. Non ho ancora. Sì, aiuto! Sì, stai male! Aspettatemi! Ehi, dove andate? Io? Ehi, 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 sono qua! Ah, no, aspetta! Ragazzi! Non deve salire! Sono qui! Sì, sì, sì! Oh, grazie! Sì! Sì, sì! Sono qui già su! Ridem! Dai, non sei cazzo! Blu! 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 ah hai vinto? grande mi spaccati il giro 3? te l'ho detto che sei quello forte devi impegnare beh in confronto a noi si possiamo pure riavviare? si ma tranquilli andate a vincere se riuscite sennò fa niente attento che le gente si stacchia tirando a vedere che andassi da un capiscatore si vado abbastanza contro il muro ah trovate trovate non uscire? oh a destra dietro a destra si si ma quasi mi ho asciutato tu che hai sparato a raffica? ok te io ok ho fatto asciutato un 21 lì lì è davanti a te dico lì a destra appena fuori c'è spuglio appena fuori il campo di grano l'ho visto e ce n'è anche uno su in alto ha preso la rampa sta volando sopra di voi ok ci siete? oh io si però non ho capito questo qua è andato in alto boh però c'è la season che si stringe quindi c'è la tempesta che si stringe ucciso? dimmi schiavo dove ti posso riavviare? eh non lo so eh buona mappa eh ce n'è uno molto dall'altra parte del cerchio di dove sei te bel po' lontano ok hai visto ehm qui scarpe io preferisco l'arma nuova io la voglio si ma secondo me è troppo tardi per avviarmi eh prendete solo tempo no 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 il cinghiali, sì. Qualcuno di voi ha un po' di... Hai un po' di... Come si chiama, mattone? Scusami, ho tanto... Ho tanto legno, lo so, ma... Se ne vuoi ti lo scopo. Chi sei? Sì, sì, sì. Sono sceso giù. È tutto. Allora, ti riferisco? No, no, tanto io fai legno. Io il metallo non lo so usare. Un casino. Ho già metto nel legno. Eh, tiene un po' di legno, vero? Mi mancano nove. No, stai tranquillo. Non avrei fretta, perché sennò poi moriamo. Cacchio sono? No, me lo non si nota. Dove stanno? Siete in otto. Casino non è questo. Ah, è lui. No. Un casino? No, perché non so dove sei. No, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Ok. Era uno. No, era in realtà uno, però... Ha gattonato, quindi... C'è il tempo che ce n'è un nato. Esatto. Qui, 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 qui. Ci sta... Vuole scandalizzare, ma... Oh, sulla? Morto? Quasi. Per terra, è per terra. C'è un'altra a destra. Un'altra a destra? Sì, c'è il suo amico di merda. Occhio, eh. Non c'è. Andate nella lobby o... Preparati? Eh? No, cosa faccio? Nella lobby o ci prepariamo? Pronto, ok. Pronto. Pronto. Pronto, abbiamo fatto la missione... Possiamo andare prima a sfruttare la cosa in... Sì, ma si creda di... Ma si fa... Esatto. Oggi mi sarebbe rilevati. Squadra, sai. Io devo fare sta Penny. Di me? Anche voi, probabilmente. Vedi, hanno i voto. Eh? Ha l'invito, giusto, che... Ugeman. Ugeman, io non mi ricordo come si chiama. Sì, sì. Posso... Sì, ma ragazzi, ma mi sa che ogni volta dobbiamo andare... Ah no, hanno finito. Ok. Mi sa che facciamo prima andare nello lobby, comunque. Per iniziare la partita. Probabilmente sì. Ogni volta stiamo a guardare la gente che gioca. Ah, capito. Ci avete voglia di far Penny? Va bene. Magari vi manca pure a voi? Probabilmente sì, non so cosa sia. Io devo consegnare una macchina qua, ma per me la faccio vedere. Allora... Sul thing, quello che vi ora. Siete? Ok. Andiamo sul rosa. Sul rosa? Ok. Sì, perché... Sì, perché... Se no, andate... Voi andate sul rosa, io vado sul rosa che faccio partire la missione. In che senso? Cioè Penny. Cioè, per quel cos'è? La missione, se non sbaglio, mi dice... Che qui c'è... Che qui c'è... Quindi ci dovrebbe stare... Dentro sti flussi... Ah, ok. Allora... Voi ne avete trovato almeno una o no? No, non è qui. Di cosa? No, io sono una fatta... Di strutture e la versione. Oh, ok. E ci sono, eh. E di solo al mondo? No, qui non c'è... Sì, no, è lei. Oh. Eh? È successo che fanno, no? C'è successo? Ma tutto castardo. Dito, chiacchia è fatto? Sei già morto. Vieni, non ho fatto poi, cosa è diverso. Dove sei, eh? Sì, qua. Sì, qua. Sì, qua. Sì, qua. Ah, che sei già a tessera, se no? Sì, non ho fatto niente. Sì, sono intanto a tesserino. Eh, cerco di minuti a pigliare. Sì, ma fa niente, ciao. Mi schia se sei lontano. Allora, andiamo. No, non mi serve, va bene. Un po' lontanino, però. Non si può. Però forse è la macchina migliore. Aspetto. Andiamo. Ma ci sarà gente? Teoria. Dobbio. No. Io ho soltanto un mappa fucile e 5 prendo medici. Tecnici. Lo so, il lavoro sblocca a te. Sperando che in questa mattina non arriviamo a secondi e terzi. Ah, sei te. Ok. Ho preso la te... No, hai preso la te, non so. Sì, sì, sì. Vieni a te. Adesso sto parlando di uovo. Sì, te. Sì, te. Ho un soldato. Casino. Sì, sì. Vediamo che sono. Uccisi tutti te. Ok. La mitragliata viola vuoi? Vuoi la mitragliata viola? Ci sei? Sì, ci sono. Ok, ok. Ok. Ecco, il furgoncino era di qua. C'è gente qua. E tu? La 60 teatro. Il furgoncino è proprio dove c'è la gente. E devi andare a versarlo e poi poi... E scappare fortissimo. E già chi sono questi? Sì, sì. Stiamo sparando qua, ci spanno. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Oh, lo sto rianimando. Tu guardi in giro. Sì, sì. Ma tu li stai già ammazzando, vabbè. Io sto andando al furgoncino. Sì. Ok. E' più forti tanto con lui gli stipri. Non c'è niente, né? No, no. I stipri sono forti. Vi do, vi do. Qua. Guardi che cazzo. Ti do qualcosa? Vai cazzo. No. Cazzo che spai. La stanza di cingua. Pizza? No. No. Il caffio è. Lui fa cosa, no? Non ho riempiato il profumo? C'è qualcuno qua? C'è qualcuno qua? No ma C'è il lama C'è il lama anche Cosa? 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 X Qui c'è qualcuno morto Grande Cosa? Vieni qua Vieni qua Arrivo Solo Allora vado a visitarlo eh Arrivo Ok Non mi morite eh Perché dopo sono muoio anch'io Quindi Anche io devo sopravvivere Che sarò da solo E' più probabile che muoio io No A dove sta andando? A fare la missione di Penny E visitare un combo io Poi arrivo Sì Strutture avversarie A te vieni qua che strutture avversarie Sì Sì Strutture avversarie Sì Allora Allora Con buio Oia Raga Non lo trovo Eccolo il cuore Ma Sì Trovalo Dove ritravevo Non mi ce l'ha dato Io Prayer Devo fare Uno di tre Trovato L'ha dato anche a me Ma ci sono altre strutture Edito Vabbè rompere anche tu Raga A me non mi conta una cosa Cosa? La visita No Non trovo L'ultimo barattolo argento Quello è argento Però Però mi sa che è suo Sai E ho guardato Ma non è Di guardare i videotrailer Certo Mi cacchio sei lì No Ah sei lì Stiamo andando Dov'è? Mi la romperò Di nuovo Uno l'ho rotto Siamo a tre Mi sa Vabbè fanculo Io me ne vado in sei Quando l'ho rotto io Siamo qui E raga Io Sento l'impossibile Perché mi servono una Non lo sento neanche Non lo sento neanche Mi cerca il convoglio Oh Mi ha preso Uno Dici Hai letto una minicamp Dici Le minicamp Dici Buone Ok grazie ciao Buona vera Andiamo su Ok Ci sono ci sono Allora Per essere un kit medico Ehm No ce l'ho grazie Stiamo vedendo se ci sono ste cazzi Ci sono due da rompere ma Da quando è qua 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 non ci sono due da rompere Ah si forse Lì avanti c'è qualcuno eh Qua qua Si L'ho vista Ma Ma state cercando ancora la struttura eh? Si Si Ok Venti ringorti Quindi posso L'abbiamo fatta Ehm 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 Qua Ok No Ehm 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 Minigun Ma dai Andiamo dai gente Siamo casinooo Eh ma andiamo a consegnare Senti ma inculati Dai dai andiamo a consegnare Meglio Devi fare missioni così sai Con livello 1 miliardo 7 Miliardo Per caso che non abbiamo le ruote quelle da Eh le puoi compreendere vabbè Vabbè Prato ad andare su vediamo che vasco più in lato esatto 2 però 20 fino a lì sopra ok vai adesso non è vinto cosa fai la rampe? vabbè mi inizia che per un pelo vai 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 dritto la macchina che costruisce porca arriva la zona 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 no da un sito al pieno sono qui in là dove? vieni bene che si viene a prendere sono qua ma chi è stato qua? io lo senti tutti ma da un cubo? dobbiamo andare in per il cubo? lì dinosauri dinosauri inizia dai dai entra 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 io ho schiacciato per entrare ok ma ho scaricato tutta la mitaglietta nei dinosauri cazzo risolto solo ogni colpo che date contro quindi si 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 ma ci che vuoi serve e intanto tieni andrei boom boom scari carne allora sai che succede sto succedendo un casino così guarda boom evita lo scudo guardate toccate eh ma sto al pieno io oh no c'ha lì non so quello di chiama scusa ah ci ricarica lo scudo con il cubo qua si 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 dobbiamo andare a prendere le robe allo sito alieno che cos'è un sito alieno? ecco sarà una base no? una base degli alieni è un pingato dove dov'è che hai in pingato? andiamo io me la macchia e andiamo eh ma si sta piuendo faccio bene le missioni sono ancora la vittoria arriveremo ancora a seconda va bene no che cazzo succede? è troppo è un casino con le scale ragazzi brava la macchina la macchina poi dovremmo farla saltare come lo stai dicendo? la macchina oh oh cosa dovete fare? siamo andando entra entra sono dentro sono dentro vai dai però no niente non facciamo niente che ti fa andare sul lato dove c'è il punto? si voglio che me li sei togliere due però appena si chiude occhio all'alberi o a destra c'è gente qui c'è gente qua sotto investilo investilo male mi sento tre mi sento tre avete lasciato le luce non entrate non entrate non entrate ah ci siete un po' lontano adesso esco a loro senti ok uno da giro cazzo succede sono saltato a cazissimo chi è che ha messo la giro? io sono scappata io grande l'hai messa sotto i piedi e mi hai salvato cazzo cazzo che mi vuole fuggire sicuramente sì esatto qua c'è uno dove cazzo è? mica ragazzi sono un po' nei casini dove cazzo sono un po' sotto c'è uno sopra di me là che ha fatto la casetta sono io con le caratte sono io eh no no non eri tu era un nemico dov'è? dov'è? dov'è il nemico? l'ho pingato sei ancora lì però allora guarda qui su sotto è quella casetta qua sotto era lì prima in quella costruzione sotto no adesso mi sta parlando e allora è lì no mi chiamiamo un stato esatto ma ragazzi dove sei? ma sei vivo? sono qua sotto dove c'è la safe? ho un picco di materiale la 300 e pasta tanto io non lo uso allora scendo no no qua dove lì? sotto sotto c'è la safe qua sotto porco giudo ah ok mi stavo spampagnando arrivo qualcuno destra 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 no no qua dietro qua dietro è quello là lo stronzo di merda la 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 lo sto pingando io ok è caduto è caduto no non è caduto eh schiodato io mi hanno schiodato mi ha venuto i medici ragazzi è la mitraglietta mi sta facendo tutto quel casino oh siete in tre ragazzi due contro uno eh due contro uno siete capito? e io sono morto è lì a sinistra andato in teoria a meno che ora sarà su in alto a guardarli sicuramente pure come loro a sinistra a sinistra eccolo lì vince grandissimo e niente sarà un po' rosso a a a vediamo 46 ne ho ok allora vi parla un rosso rinnegato e un crito robotico cosa dove ci trovi un scia zitta ma oggi non facciamo riuscire ah ok scusate la lobby mi sono andata alla lobby ma abbiamo fatto tutto bravo tutto torino tutto custom tutto baba yaga e poi facciamo anche me tu cioè allora che mi sei ci sono ci sono allora io devo fare bene ancora le rimanenti che sono tutti blu ma anche da voi uscite blu ecco sirena tanto ho 8 10.000 pubbac ma dai geniale perché perché scherzo non mi regalavo qualcosa a tutti no ma no ok io cerco di vedere il pass non dovrei fare le regole perché non mi preoccupare ah amiche ma siete sempre aspettando me esatto di volta di volta ma andiamo a dischiere prendiamo cose che tanto non userò mai in standard giù siete? sì il ah va questo palettino qua è fico va ah un colpo di spalle questo palettino qua è fico va andiamo e poi non mi sorpreso che lo prendi in America boh lo so corrisponendo è una allora troppo questo può essere possibile ma voi volete fare un po' di creativa o no? chiedo voi per me va bene allora io creativa sinceramente non allora no niente creativa ma voi mi non dimenticate una cosa ecco voi raga ma se andiamo qui sì io dopo volevo andare su pink rosa rosa o viola? no andiamo su rosa poi volevo andare su rosa per far partire da un istituto allora voi andate io quando c'è rosa dove state andando giù di qua ok perché io su rosa devo cercare l'ultimo cosetto lì grigio quindi voi andate cos'è il cosetto grigio questo è una base da dire oh qua c'è qualcun altro via occhio e io ho fatto una cazzata enorme ecco limitato su un sito alieno ok ucciso cazzo qua c'è uno ma se forse anch'io ho incontrato uno sono due assurdi non mi morite? no non prometto niente ok adesso un fucile almeno ah io non ho asciutato due player ma non sono morti è un'unica per la via no ma non è solo una cosa merda niente sono morto cos'è morto? eh sta strozza qua mi ha rubato più tempo le armi ecco che quel che io ho ucciso il compagno adesso vendica l'angelo ma rivolta ma cazzo nè bene deve morire male malissimo Luca ci ha ci ha segnalato questo qua ci ha segnalato nel senso ha visto dove siamo lo sgambalo per batteria che cazzo serve lo sgambalo per batteria ma cazzo anche io da suonare è bello è bello è bello cosa stai leggendo no no è bello per batteria pensavo che eri qua no quello è tanto no sono un talissimo però adesso arrivo dobbiamo andare aiuto a penny per poter prendere il player non ci ha messo player e ci vanno via ah ho finito il materiale spara oh sì vabbè ho sbagliato che lo posso fare questo è missione là o più là perché sto morendo ok ma è di fianco a me ah basta è scappato è scappato è scappato presso è un seressa è un seressa non c'è nessuno qua di sicuro ah sì è abitato è andato tutto presso vediamo ok adesso pari che lo sto vedendo servono delle pende ma si schia là ma no ho ancora lì a palo è caspato è sicuro ma che cazzo va bene è abbastanza fermo ti serve roba no non serve niente voglio andare a prendere la scrittura ok 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 l'ho ucciso ha sceso il casino merda fanno scarpare i gommi io adesso posso mettere il foglio mi concentrerò di meno su 40 ma di più ok allora tu vai sono morto vai 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 da cavolo hai? ah quasi un uccello 104 c'è qualcuno? no per te io anche io faccio 104 una scherza era e chi era mio eh ciao come primo detto ma come hai fatto a morire? eh ce n'è un altro qua 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 c'è gente qua sto pingando sto andando di qua hai visto? si ah merda non mi interessa c'è uno lì scusami c'è uno qua c'è uno qua c'è uno qua c'è uno qua c'è adesso un attimo ancora ok perché segnalo? ok preparati preparati si preparati eh bene devo fare le guardie o i le guardie o i le guardie o i sono là ci sono ci sono ci sono ci sono le guardie le guardie o le ho chiede però mi l'ho dimenticato mi puoi vedere più l'incarico eh? adesso si ma ragazzi qua conviene che usciamo ogni volta si esatto la prossima volta mi sentite così lontano? si ok io lo so ok io ragazzi faccio l'ultima poi vado a piantarmi come le do laura si ma anche io la volta abbiamo i miei lenti quanti anni se ne hai maledetti occhiali quindi mi puoi vedere più l'incarico così domani domani catturo si e intanto me lo scambio con il mio e intanto però ok però no manca veramente così poco e facciamo 65 mila molti spi completi incarichi da Fabio dove sto Fabio? ah no c'è tanto per Fabio niente niente c'era Fabio dove dobbiamo andare? Coschi? si vediamo cosa? andiamo perchè? Coschi questo è a parlare col tizio per partire le missioni e poi se vogliamo possiamo andare a scogliere? se vogliamo andare a scogliere? si devo andare a scogliere? arrivo esatto così ok 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 ok